In questo tutorial vediamo come risolvere integrali utilizzando il metodo del differenziale. Ricordiamo qual è il principio. d di f di x è uguale ad f' di x in dx. Da questa relazione dobbiamo esplicitare dx, che risulterà essere uguale ad 1 su f' di x in d di f di x. Vediamo ora come risolvere i seguenti integrali utilizzando il metodo del differenziale. Partiamo da questo esempio. Indico con f di x il termine che è a grado maggiore, ossia 3x alla seconda più 4 e ne calcolo il differenziale e scrivo d di 3x alla seconda più 4. La derivata di 3x alla seconda più 4 è pari a 6x e poi metto in dx. Divido ora tutte e due membri per 6x. In questo modo posso esplicitare dx e scrivere dx uguale a questa quantità. Questo 6x a denominatore preferisco scriverlo come 1 fratto 6x in d di 3x alla seconda più 4. Torno ora all'integrale e al posto di dx scrivo questa quantità ed ottengo integrale di 6x fratto 3x alla seconda più 4 per 1 fratto 6x di di 3x alla seconda più 4. Ora semplifico 6x con 6x e questa quantità 3x alla seconda più 4 la pongo uguale a t, ossia quando nell'integrale vedo 3x alla seconda più 4 dovrò scrivere t ed ottengo integrale di 1 fratto t in dt. Questo integrale è un'integrale elementare ed ha come risultato logaritmo di modulo di t più c. Ora tenendo presente che t è pari a 3x alla seconda più 4 possiamo riscrivere logaritmo di modulo di 3x alla seconda più 4 più c. Osservando che l'argomento del logaritmo sia 3x alla seconda più 4 è sempre una quantità positiva, possiamo togliere anche il valore assoluto e scrivere logaritmo a protonda 3x alla seconda più 4 più c. Risolviamo questa integrale utilizzando il metodo del differenziale. Indico con f di x il denominatore che risulta avere grado maggiore e vado a calcolare d, di 3 più 7x. La derivata di 3 più 7x risulta essere pari a 7 in dx. Divido ora tutte e due membri per 7, in questo modo posso esplicitare il valore di dx ed ottengo dx uguale 1 settimo in d di 3 più 7x. Torno ora all'integrale e al posto di dx scrivo questa quantità ed ottengo integrale di 7 fratto 3 più 7x per 1 su 7 in d di 3 più 7x. Adesso semplifico 7 con 7 e questa quantità 3 più 7x la pongo uguale a t ed ottengo integrale di 1 fratto 3 più 7x abbiamo detto che è uguale a t e allora scriverò 1 fratto t in dt. L'integrale di 1 su t è pari al logaritmo di modulo di t più c. Ora al posto di t riscriviamo la sua quantità in x e quindi ottengo logaritmo di modulo di 3 più 7x più c. Passiamo a questo secondo esempio. Indico con f di x questa quantità e allora calcolo il differenziale di 2x meno 5. La derivata di 2x meno 5 è pari a 2 e poi metto in dx. Divido ora tutte e due membri per 2 e semplifico il 2 di fronte il dx ed ottengo dx uguale un mezzo d di 2x meno 5. torno all'integrale e al posto di dx scrivo questa quantità ed ottengo integrale di 1 fratto 2x meno 5 per un mezzo in d di 2x meno 5. Pongo ora uguale a t 2x meno 5 e allora qui andrò a sostituire con t. Questo un mezzo essendo un numero per la proprietà di linearità lo scrivo direttamente fuori ed ottengo un mezzo integrale di 1 su t in dt. Ricopio l'un mezzo. L'integrale di 1 su t è pari a logaritmo di modulo di 2x meno 5 più c. Ora al posto di t riscrivo 2x meno 5 ed ottengo un mezzo logaritmo di modulo di 2x meno 5 più c. Andiamo a risolvere questi due integrali. Partiamo dal primo e utilizziamo sempre il metodo del differenziale. Porrò f di x il termine di grado maggiore, ossia x alla terza più 2 e allora scrivo d di x alla terza più 2. La derivata di x alla terza è pari a 3x alla seconda in dx. Divido ora tutte e due membri per 3x alla seconda in dx alla seconda e vado a semplificare ed ottengo dx uguale 1 fratto 3x alla seconda in d dx alla terza più 2. Torno all'integrale e al posto di dx scrivo questa quantità ed ottengo integrale di x alla seconda fratto x alla terza più 2 per 1 fratto 3x alla seconda in dx alla terza più 2. Semplifico x alla seconda con x alla seconda ed ora x alla terza più 2 lo pongo uguale a t. Questo un terzo per la proprietà di linearità lo porto fuori dall'integrale ed ottengo un terzo integrale di 1 fratto, visto che qui c'è scritto x alla terza più 2, avendo posto x alla terza più 2 uguale a t dovrò scrivere t in dt. Svolgo ora l'integrale ed ottengo un terzo logaritmo di modulo di t più c. Tenendo presente che t è pari a x alla terza più 2, ottengo un terzo logaritmo di modulo di x alla terza più 2. Passiamo a quest'altro esempio. Il termine di grado maggiore è x alla quarta più 1 e allora pongo come f di x x alla quarta più 1 e ne vado a calcolare il differenziale d di x alla quarta più 1. La derivata di x alla quarta è pari a 4x alla terza e poi metto dx. Divido adesso tutte e due membri per 4x alla terza e in questo modo posso isolare il termine in dx ed ottengo dx uguale 1 fratto 4x alla quarta più 1. Torno all'integrale e al posto di dx scrivo questa quantità ed ottengo l'integrale di 8x alla terza fratto x alla quarta più 1 per 1 fratto 4x alla terza in d di x alla quarta più 1. Semplifico x alla terza con x alla terza e poi posso semplificare anche 8 con 4 e quello che mi rimane è questo due annumeratore che per la proprietà di linearità andrò a scrivere fuori dall'integrale. Pongo uguale a t x alla quarta più 1 e allora vuol dire che qui scriverò t ed ottengo il 2 abbiamo detto lo scriviamo fuori dall'integrale 1 fratto t in dt. L'integrale di 1 su t è pari al logaritmo di modulo di t più c ed ora al posto di t scrivo x alla quarta più 1 ed ottengo 2 logaritmo di modulo di x alla quarta più 1 più c. Tenendo presente che x alla quarta più 1, argomento del logaritmo, è sempre una quantità positiva, il valore assoluto non mi serve e allora mi è sufficiente utilizzare le tonde e scrivere 2 logaritmo, apro la tonda, x alla quarta più 1 più c. Vediamo questi altri due esempi e partiamo dall'integrale di 3 tangente di x in dx. Come prima cosa tangente di x la vado a riscrivere come sen x su cos x e questo 3 lo porto al di fuori dell'integrale e allora scrivo 3 integrale seno di x fratto coseno di x in dx. Anche questo integrale può essere risolto col metodo del differenziale. In particolare scelgo come f di x coseno di x e ne vado a calcolare il differenziale. d di coseno di x risulta essere uguale a meno seno di x in dx. Dividendo tutte e due membri per seno di x e moltiplicando per meno 1 si ottiene dx uguale meno 1 fratto seno di x in d coseno di x. Torno ora all'integrale e al posto di dx scrivo questa quantità. Il segno meno lo ricopio direttamente fuori dall'integrale ed ottengo meno 3 integrale seno di x fratto coseno di x per 1 su seno di x in d coseno di x. Adesso posso semplificare seno di x con seno di x e pongo uguale a t coseno di x ed ottengo meno 3 integrale di 1 fratto, visto che qui c'è scritto coseno di x, dovrò scrivere t in dt. L'integrale di 1 su t è logaritmo e allora scriverò meno 3 logaritmo di modulo di t più c, tenendo presente che t è pari a coseno di x meno 3 logaritmo di modulo di coseno di x più c. Per questo esercizio faccio un'osservazione. Ho calcolato il differenziale di coseno di x in quanto ho osservato che a numeratore ho seno di x in dx e tenendo presente che a meno di un segno la derivata del coseno è proprio seno, allora mi è convenuto porre come f di x coseno di x. Passiamo a quest'altro esempio. Anche questo integrale lo andrò a risolvere con il metodo del differenziale e utilizzerò come f di x coseno di x più 2 e scrivo d di coseno di x più 2. La derivata di coseno di x risulta essere pari a meno seno di x, la derivata di 2 è 0, e poi ricopio dx. Ora moltiplico tutte e due membri per meno 1 e divido per seno di x tutte e due membri ed ottengo che dx risulta essere uguale a meno 1 fratto seno di x in d coseno di x più 2. Ora, tornando all'integrale, al posto di dx scrivo questa quantità. Il segno meno lo ricopio direttamente fuori dall'integrale ed ottengo meno integrale di seno di x fratto coseno di x più 2 per 1 fratto seno di x in d coseno di x più 2. Ora, semplifico seno di x con seno di x e vado a porre uguale a t coseno di x più 2 ed ottengo meno integrale di 1 fratto t, visto che qui c'è scritto coseno di x più 2, in dt. L'integrale di 1 su t è logaritmo e allora scrivo meno logaritmo di modulo di t più c. Tenendo presente che t è pari a coseno di x più 2, ottengo meno logaritmo di modulo di coseno di x più 2 più c. Osservo ora che l'argomento del logaritmo coseno di x più 2 risulta essere sempre una quantità positiva per ogni x, allora il valore assoluto non mi serve e posso sostituirlo con delle parentesi tonde e scrivere meno logaritmo, apro la tonda, coseno di x più 2 più c. Vediamo questi ultimi due esempi e andiamo a risolvere questo integrale utilizzando il metodo del differenziale. Porrò come f di x e alla x più x alla seconda e allora ne calcolo il differenziale, scrivo d di e alla x più x alla seconda. La derivata di e alla x risulta essere pari a e alla x, la derivata di x alla seconda è pari a 2x in dx. Divido adesso tutte e due membri per e alla x più 2x in questo modo posso semplificare il fattore di frontella x ed ottenere dx uguale 1 fratto e alla x più 2x in d di e alla x più x alla seconda. Torno all'integrale e al posto di dx scrivo questa quantità ed ottengo integrale di 2x più e alla x fratto e alla x più x alla seconda per 1 fratto e alla x più 2x in d di e alla x più x alla seconda. Posso semplificare questo blocco con questo blocco in quanto sono uguali tra di loro e adesso pongo uguale a t e alla x più x alla seconda ed ottengo integrale di 1 fratto t in dt. L'integrale di 1 su t risulta essere logaritmo di modulo di t più c ed ora tenendo presente che t è pari a e alla x più x alla seconda posso scrivere logaritmo, apro la tonda, di e alla x più x alla seconda più c. Osservo che ho messo le tonde in quanto e alla x più x alla seconda, argomento del logaritmo, certamente risulta essere sempre una quantità positiva per ogni x reale. Vediamo quest'ultimo esempio. Per risolvere questo esercizio porrò come f di x logaritmo di x e scrivo d di logaritmo di x. Il differenziale del logaritmo di x è pari a 1 su x in dx. Moltiplica adesso tutte e due membri per x. In questo modo riesco a esplicitare dx ed ottengo dx uguale x di logaritmo di x. torno all'integrale e al posto di dx scrivo questa quantità ed ottengo integrale di 1 fratto x logaritmo di x per x di logaritmo di x. Posso adesso semplificare x con x e pongo uguale a t logaritmo di x ed ottengo l'integrale di 1 su t. L'integrale di 1 su t è pari a logaritmo di modulo di t più c e adesso al posto di t scriviamo logaritmo di x ed ottengo logaritmo di modulo di logaritmo di x più c. E con questo termino tutorial su esempi di integrali risolubili con il metodo del differenziale.